Ciao, buo, buo, la maioci Maioci Anna, buongiorno Allora, senta, io sono cediaco quindi per me nessun prodotto derivato dal grano e io invece sono vegano e quindi non posso mangiare né la carne, né il pesce, né le uova né i latticini, né i salumi niente di tutto ciò che è origine animale, capi? E anche tu mi sa che c'è dei problemi, no? Io sono diabeta niente i zuccheri per favore, no, perché poi ci senti male ti viene il coso là ma invece io sono allergica alla frutta in generale soprattutto alla frutta secca all'acchidi, noci, mandorle ah, sono allergica anche ai prostacei, ai molluti i cotti, ai noci e tutto tra tuffe, alipi, tutto la fa gonfiare capisco che la stiamo mettendo in difficoltà però ora qui che cosa ti consiglio? ah io, che cosa ti consiglio? eh sì, scusa a voi quattro vieni che cosa ti consiglio Giovanni dove puoi parlare che sta là? vieni come è bello sai che cosa è qui? l'ospital bel ha